Economista di fama internazionale, intellettuale laico da sempre impegnato, sostenitore di un'analisi della società che si serva di tutte le discipline sociali, Paolo Silos Labini è tornato dopo 17 anni e molte altre opere a scrivere un libro sul sottosviluppo, un tema che da anni non è più al centro dell'analisi economica, il perché ce lo spiega lui stesso all'inizio di questa conversazione su economia e morale. Gli economisti sono stati come comprensibili attratti dai problemi dell'economia in cui vivevano, in Italia è un paese economicamente sviluppato, dal punto di vista civile è un po' meno, anche per il sottosviluppo, anche per i perfili terapeutici di intervento, bisogna avere idee molto chiare. Io dico che una delle ragioni del ritardo dell'interesse è che per avere chiare bisogna seguire il metodo di Smith, non si possono vedere semplicemente gli aggregati, reddito o produzione complessiva dell'agricoltura, dell'industria, ma bisogna andare dentro e soprattutto alle radici e non solo alle radici strettamente economiche, anche a quelli istituzionali. Questa è una difficoltà tremenda, perché l'economista prima di mettersi a teorizzare deve studiare i casi e senza lo studio della storia, ma non nei particolari, almeno nelle grandi linee, ma uno studio serio, non raffazzonato, non si può fare. Lei scrive appunto, lo sviluppo economico non può affatto essere visto come un bene assoluto, nel suo corso distrugge molti valori tradizionali e determina mutamenti profondi nei modi di vivere e nei sistemi di idee. Lei non distacca l'economia dall'etica, cosa che invece pare che una serie di economisti sia come fosse separata. sbagliando, perché c'è l'idea un po' resa culturalmente più accettabile da Machiavelli, che siano sfere distinte e contrastanti, etica, economia e politica. Invece no, ma non è questione di essere moralisti o pressioni sensibili o per bene. Si vive male se non c'è, ma nel senso pieno della parola. Se domina in un paese in cui domina la corruzione, diventa una vita impossibile, non ti puoi fidare di nessuno, fai una strada e metà diventa asperpero. Allora tutto questo papò di cimiteri di opere pubbliche, enormi, incredibilmente grande, a cui ci sono anche ospedali, da che veniva? In buona misura, non completamente, in parte era l'inefficienza, veniva da una morale baccata. Allora la morale non è che sta lì e l'economia sta qui, è un tuttoro. In questo senso il ruolo dello Stato quale può essere e quale deve essere secondo lei? Beh, i liberisti, e in questo io mi ho sempre considerato liberista, si preoccupano che lo Stato diventa corruzione e in questo hanno ragione, infatti la tesi di… io l'ha visto quanto insisto su questo, ma non perché è un fatto morale in contrasto a quello che lo fa, perché soprattutto nei paesi sottosviluppati, c'è poco da farsi illusione, i paesi sottosviluppati più o meno sono pieni di corruzione e chi? Anche gli stessi, spesso i bianchi non lo dicono, ma sono gli stessi uomini di colore, perché? Ma perché lì quelli che sanno leggere e scrivere e fargli conto sono pochi. L'uomo ha tendenze malvagie, in questo Machiavelli aveva ragione, nessuno lo controlla, la stampa non c'è, non ha peso, possono fare quello che vede bene, fanno i prepotenti e ci stanno una serie, salvo intellettuali come Senghor o quell'invenzione positiva di Mandela, ma sono eccezioni, gli altri la regola è la corruzione e con la corruzione che fa? Vengono i soldi per fare delle opere pubbliche e se li mangia anche personaggi che hanno mangiato soldi italiani, ma i soldi italiani del terzo mondo in parte sono stati mangiati da altri italiani, si mettevano d'accordo e tutta questa è corruzione a livello internazionale che frena lo sviluppo, certe volte lo impedisce e siccome sono meridionale questo problema nel mezzogiorno è ancora più avuto che nel nord e siccome accetto la lezione di Smith, cioè che lo sviluppo economico ha un senso se poi diventa sviluppo civile, se non lo diventa che succede? Che ci può essere l'opulenza materiale, ma poi ci può essere la delinquenza minorile che dilaga, ci possono essere situazioni di atroce e infelicità nel campo della vita politica dove non sai se hai da fare con un politico o con un mafioso o con un criminale, non è bello. La questione meridionale quindi come un problema ancora aperto e ancora collegato anche al sottosviluppo o no? Sì, qui l'ho detto più di una volta, è collegato ormai più al sottosviluppo civile che è quello economico, anche se nelle zone del mezzogiorno ci sono chiazze di miseria, dove ci stanno i caporali, quelle cose che sappiamo. Sono arrivato a dire che nei quartieri poveri di Napoli, mezzo napoletano, li conosco non soltanto come napoletano, ma che sono andato a vedere. Se uno fa il censimento, non l'ho potuto fare, non si può fare, ma credo che il reddito medio dei quartieri più poveri di Napoli è come reddito materiale, paragonabile a quello di Siena, vogliamo mettere i confronti dal punto di vista civile, non è una battuta, è simile, però a Siena si fa attività rurali, industriali, artigianali, tradizionali, in maniera, anche lì c'è stato i broglioni, corrotti, però nel complesso la somma algebrica è positiva. A Napoli appunto si fa in quei modi, con traffici illeciti, di ogni tipo, non ci stanno barriere morali, perché non devo fare un po' di soldi con la droga, anche se al minuto ho prostituzione, qual è la remola? Nessuna, perché abbiamo detto che la morale non conta, si sommano le cifre, ma guarda qui i redditi sono gli stessi, è la stessa vita, è meglio vivere a Siena o in un quartiere proprio di Napoli? Io dico che è meglio vivere a Siena. Oggi che il mercato appunto si estende su scala universale, globale, e non è solo da oggi, lei dice la globalizzazione è un fenomeno molto antico, si è accelerato, però poi cita il caso dell'Africa subsahariana che è un effetto perverso di un'assenza totale di regolamenti, di leggi, di istituzioni che possano governare questa… Anche nella globalizzazione bisogna stare attenti, il pericolo di chi parla di discussione sulla globalizzazione è che si vedono gli elementi di collegamento, non si vedono che questo riguarda una parte dell'umanità in maniera forte, l'altra soffre della globalizzazione è proprio perché rimane fuori, rimanendo fuori non hai vantaggi e può avere dei danni come sappiamo, 80 anni fa nasceva il Partito Comunista Italiano, lei era nato da pochi mesi, come vede questa vicenda, questo percorso che ha compiuto questo partito? I rapporti con il comunismo diventano rapporti con Marx, che è il capoccione. Fesci uno studio di Marx, pochissimi l'hanno fatto, con Marx l'hanno fatto, lo so, in dieci, con Smith uno e Marx era, ed è una miniera. Al principio ero ben disposto verso Marx e di riflesso anche verso i comunisti, ben disposto non vuol dire che mi identificavo, stavo sempre sulle vie, che erano quelle che sono cambiate poco, diciamo. Però quando è che mi sono arrabbiato con Marx, ma proprio arrabbiato brutto, siccome io sono moralista, vale il senso che dicevo, sono smittiano, non penso che c'è una spaccatura tra morale, politica ed economia, quando un amico che legge molto più di me mi ha fatto vedere sulle opere complete delle passe di Marx, presi da giornali o anche da epistolario, atroce, in cui Marx ne ha citato uno solo, era in un articolo su Rheinische Zeitung, rivolgendosi ai borghesi e mettendosi nei panni del primo nucleo del Partito Comunista tedesco, ha scritto quanto segue, vei victis, voi non dovete avere nessun riguardo per noi, per noi comunisti, già che noi non ne avremo per voi quando sarà la nostra ora, punto, non abbelliremo il terrore. Questa non è l'unica, una delle citazioni. Allora mi sono arrabbiato con Marx, perché Marx non è machiavellico, è ipermachiavellico, e si dice che il fine giustifica i mezzi, no, i mezzi condizionano il fine, se tu usi la menzogna, l'inganno, la violenza, non puoi migliorare la società, la peggiori, perché questo inganno, violenza, furto, già c'è, tu dici che bisogna crescerlo per avere il paradiso, no, il paradiso non l'avrai, anzi avrai l'inferno. Secondo lei oggi, perché c'è una frattura tra la sua generazione e le nuovissime generazioni di economisti e di studiosi che denuncia anche lei, ignorano totalmente i classi? Io non vedo tanto una frattura intergenerazionale, quanto il fatto che le persone che si preoccupano della vita civile vogliono combattere la spaccatura fra morale e politica ed etica, combattere per dare senso alla vita, non per fare immoralisti così, no, non ho mai sentito un moralista di quel tipo lì. Qui allora il guaio non è tra vecchi e giovani, è tra vecchi e vecchi e giovani e giovani e quelli che hanno queste idee di questo tipo sono pochi e questo lo dice, tu ne fai parte? Sì, ti senti orgoglioso? No, mi sento umiliato e mi dispiace, mi sono rattestato, vorrei che come me ce ne fossero centinaia, migliaia, decine di migliaia.